L'influenza costringe molti italiani a passare l'epifania a letto e alle prese con le medicine. Per via del virus in tre giorni quasi 7 milioni di persone sono state visitate dai medici di famiglia, con conseguente tilt di ambulatori. Si tratta soprattutto di pazienti cronici e anziani, spiega la Federazione Medici di Medicina Generale, che parla di un aumento del 30% dei casi rispetto agli anni scorsi. Presi d'assalto i pronto soccorso per ridurre l'attesa negli ospedali Liguri, oggi e domani i medici di base visiteranno pazienti in codice bianco e verde. A Torino aumentati i posti letto. In Puglia la quarta vittima, un settantenne con gravi patologie, ricoverato in condizioni critiche. Il dato positivo è l'aumento dei vaccinati over 65 anni, anche se la percentuale è ancora bassa. Il picco del virus è previsto per metà gennaio. L'influenza di quest'anno non è diversa da quella degli scorsi anni, ovvero è una pesante malattia che si risolve in 4-5 giorni e dà problemi soprattutto nei soggetti più fragili, perché nella grande maggioranza dei casi è una malattia che si autorisolve. Ma quali sono gli accorgimenti per prevenire e curare l'influenza? Non va sottovalutata. È importante un approccio di buonsenso nel cercare di evitarla attraverso rimedi che tutti sappiamo ma non applichiamo, come lavarsi frequentemente le mani, attenzione agli sbarsi termici. Se si è colpiti, utilizzare in prima battuta l'automedicazione che deve essere responsabile per attenuare i sintomi senza zerarli, seguire l'andamento della malattia, rivolgersi al medico se le cose non migliorano dopo i classici 4-5 giorni.